L'Abruzzo resterà in zona arancione fino al 31 gennaio, così a Teramo la Prefettura inasprisce le misure di controllo per questo fine settimana. Una decisione adottata sulla base di intese, emersa nel corso delle ultime sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dagli approfondimenti tecnici fatti dalla Questura. Già dal 17 gennaio scorso i servizi di controllo delle forze dell'Ordine sul territorio terramano sono stati rimodulati in relazione al nuovo livello di rischio epidemiologico in atto. Secondo le indicazioni direttamente emanate dal Ministero dell'Interno, deve essere garantita la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni, soprattutto nelle aree urbane, specialmente quelle interessate da fenomeni di affollamento nelle ore serali e notturne, oltre ai luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali. Particolare attenzione sarà riservata nel fine settimana rispetto degli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei ristoranti e dei bar. Inoltre l'attività sul territorio sarà finalizzata, oltre al rispetto delle limitazioni della mobilità, all'osservanza dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine e ad evitare situazioni particolari di assembramento che nelle ultime settimane hanno riguardato soprattutto le fasce più giovani della popolazione. In relazione ai servizi di controllo svolti nella settimana dall'11 al 17 gennaio la prefettura di Teramo rende noto che sono state controllate nel territorio provinciale 2.856 persone. Sono state elevate 68 multe, 33 delle quali sanzionate per assembramento, 10 per mancato uso della mascherina, 25 per spostamenti non motivati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 502, sono stati multati 4 titolari ed è stata disposta la chiusura provvisoria per due attività.